buongiorno a tutti io sono fabio paladino e mi occupo di grafiche in web design in across andiamo a vedere oggi come creare elaborati efficaci per il digital campaign e partiamo da in cosa consiste il processo creativo inizialmente arrivano degli input che possono essere la proposta il canale la strategia il brand tutti questi input vanno a formare quello che in gergo si può chiamare brief e la domanda principale che bisogna porsi è come fare a tramutare questo questo brief questo insieme di input in una proposta efficace in un visual efficace partiamo dai contenuti i contenuti vengono elaborati in forma testuale dalla figura del copywriter che appunto consegna al graphic designer un testo che ha già una gerarchia indicata ad esempio vengono indicati i titoli il messaggio le call to action e dopo che abbiamo capito cosa vogliamo comunicare e come vogliamo comunicarlo allora mettiamo insieme i pezzi mettiamo insieme i pezzi e scegliamo gli elementi i colori quindi come abbiamo visto prima partiamo dal brand il logo del del brand i titoli con i vari fonti i vari pesi e i colori che possono mettere in risalto le call to action e le immagini che ci aiutano a completare il messaggio e quindi a renderlo a renderlo più efficace andiamo però a vedere nel concreto quindi in maniera un po più tecnica come andiamo a definire quello che possiamo chiamare il tono voice cioè proprio il tono di voce il modo di comunicare vi sono differenti elementi il primo tra questi è il font o carattere i font si dividono in due grandi categorie font sans serif e font serif il serif che in italiano significa grazia è costituito da appunto questa composizione della lettera con alcuni girigori all'inizio alla fine per aumentare la lettura del per migliorare la lettura dell'utente sono è il tipo di font più storico che conosciamo prima viene dal avviene questa questa ricerca tramite gli amanuensi e poi grazie alla tipografia si è si è sviluppato nel tempo infatti il font è san serif e ancora oggi il font che ci permette di avere una migliore leggibilità quando dobbiamo leggere grandi quantità di testo lo ritroveremo sicuramente nei nei libri o nelle riviste e poi invece una famiglia più attuale è il font sans serif cioè il font spogliato di queste di queste grazie nella sua forma più asciutta oltre a dare un senso più di modernità questo tipo di questo tipo di font risulta molto più leggibile sui schermi questo perché quando leggiamo tramite una fonte luminosa il carattere liberato di tutti di tutti i rigori risulta di più facile fruizione naturalmente qui sono riassunte le principali due grandi famiglie due categorie di font ma ne esistono molte altre queste due queste due famiglie possono essere utilizzate in un modo in un altro a seconda dell'elaborato che andiamo a costruire e per i motivi che ho citato prima che nel web design ad esempio troveremo la maggior parte dei testi scritti in sans serif ma non è detto che che questa regola non venga in qualche modo gestita diversamente con qualche eccezione ad esempio come abbiamo visto il il font serif che è un font più storico potrebbe dare più autorità all'elaborato e quindi potrebbe essere utilizzato ad esempio per uno studio notarile o delle o per alcuni elaborati istituzionali quindi definendo delle regole di visibilità ma anche di percezione visiva possiamo andare a scegliere il nostro font e nella nella scelta del font dobbiamo preoccuparci anche di definire quello che viene chiamato il peso del font in principio vienano due principali pesi che erano il regular e il bold e con l'avvento del web design abbiamo vediamo una gradazione di pesi che vanno dal thin al al black questo ci permette di avere un ampio raggio di scelta e scegliere pesi più specifici a seconda del del messaggio che vogliamo comunicare e dopo aver scelto i font lavoriamo su un altro elemento che è il colore e i colori nella sintesi sottrattiva si definiscono in tre colori primari che mischiati tra loro danno i colori secondari e poi quelli terziari eccetera nello studio del di questi colori primari abbiamo poi l'identificazione di due grandi categorie che sono i colori freddi e i colori caldi i colori i colori freddi sono caratterizzati da questo senso di di freschezza vanno dal dal viola al blu al al verde e danno una percezione di un contesto distensivo mentre i colori caldi dalla dall'altra parte creano un ambiente più caldo più più confortevole e possono essere utilizzati per la gestione di contesti più vivaci anche per dare dei segnali di pericolo di allarme ad esempio come il colore rosso utilizzando appunto questi questi colori possiamo arrivare alla definizione di contrasto che ci serve per rendere più visibili e più leggibili gli elementi sul sul nostro elaborato in questa in questa slide facciamo vedere i contrasti cromatici più famosi il l'arancio e il blu il verde e il rosso il viola e il giallo e il nero e il bianco questi sono contrasti cromatici definiti da colori complementari e sono quelli che per saturazione sono più efficaci perché i contrasti sono principalmente di due tipi uno come abbiamo visto cromatico e il secondo chiaro scurale quindi possiamo trovare anche degli elementi che sono ben visibili anche se hanno delle gamme di colore molto simili tra loro ad esempio posso prendere un verde chiaro e un verde scuro i due elementi saranno sicuramente avranno un buon bilanciamento di contrasto e saranno visibili nell'elaborato avendo visto i font e i colori possiamo vedere altri elementi con cui poter comporre appunto il nostro messaggio e abbiamo le forme anche qui facendo un grande riassunto di quelle che sono le forme che possiamo utilizzare nel visual design troviamo le forme arrotondate e le forme spigolose le forme arrotondate danno nella percezione visiva un senso di morbidezza di fluidità e possiamo utilizzarle anche combinate attraverso i font e i colori per generare un contesto di morbidezza di amichevolezza invece le forme con spigoli quindi più nette più incisive possono essere utilizzate per creare un certo distacco ma anche per dare un certo senso di professionalità o mischiate anche con le altre forme per definire una struttura più rigida ma più chiara e ultimo tra gli elementi che citeremo oggi sono le immagini le immagini possono essere di differenti tipi qui vediamo delle immagini illustrative e delle immagini reali delle fotografie le immagini possono essere didascaliche o evocative l'immagine didascalica è quella che arriva dritta al messaggio ad esempio nell'immagine che vediamo sulla destra vediamo due persone che mangiano al ristorante questa immagine può essere un'immagine didascalica nel momento in cui vogliamo comunicare un messaggio per appunto invitare le persone a mangiare in un determinato ristorante le immagini invocative invece si possono spiegare con le metafore visive ad esempio possiamo prendere la figura del leone per suggerire un marchio coraggioso un marchio forte questo possiamo fare mente locale e possiamo pensare a tutti i loghi che utilizzano ad esempio questa figura e attraverso le immagini evocative possiamo anche creare un contesto leggermente più generico delle immagini didascaliche per completare il messaggio ad esempio nell'immagine di sinistra quella illustrativa che ho inserito in questa slide vediamo che i significati che possono essere enunciati attraverso queste immagini sono molteplici cosa significa? significa che il significato si va a formare si va a completare a seconda della scritta che mettiamo all'interno non possiamo comunicare qualsiasi cosa però possiamo comunicare tante cose e qui vengono in aiuto le immagini evocative proprio per non dare un messaggio chiaro ma più generico andiamo a vedere per ultimo alcuni esempi che ho selezionato in cui vengono utilizzati tutti questi elementi e vengono mischiati in modo di creare degli elaborati efficaci un lavoro che in realtà non fa parte del contesto del web design però ho trovato molto interessante farlo vedere al fondo di questa presentazione è un wall che abbiamo progettato per una delle fiere a cui Accross ha partecipato e in questo caso vediamo che le immagini non sono per nulla didascaliche sono totalmente evocative questo per comunicare appunto la proposta tecnica di Accross che è costituita da differenti elementi che però presi singolarmente hanno un effetto ma sicuramente insieme avranno un effetto più forte ringrazio dell'attenzione ricevuta nel caso ci fossero domande rimango disponibile domanda tecnica, ringrazio per la domanda mi ero preparato su questo la vera domanda etica qui però è il font o la font? ma tecnicamente dal vero significato della parola ci sono alcuni correnti che dicono che sia più corretto dire la font essendo una parola straniera però possiamo in qualche modo gestirla con l'articolo che preferiamo io preferisco dire il font che forse è la forma meno corretta però perché io mi riferisco al carattere tipografico e quindi parlo del font anche perché ormai carattere è comprensibile solo forse dagli addetti al settore è meglio avere un brief molto specifico o uno più libero? questa è una bellissima domanda sicuramente un brief specifico denota quelle che sono forse anche le direzioni più precise che il brand o il prodotto nella comunicazione dovrebbe prendere quindi forse il brief più specifico può in qualche modo aiutare per creare una campagna efficace d'altra parte effettivamente un brief meno specifico dà più spazio forse ad una creatività più libera quindi anche al pensiero creativo che sta dietro la strategia sia di contenuti sia visiva in caso di problemi di accessibilità dislessia, daltonismo eccetera è meglio utilizzare font serif o sans serif colori freddi o colori caldi? allora partiamo dal in caso di dislessia o comunque di comprensione del testo allora se ci troviamo proprio in un caso di creazione degli elaborati per determinati contesti quindi ad esempio proprio per rivolto a persone che hanno questo tipo di necessità allora è il caso di preparare un elaborato che abbia in qualche modo la scelta del font il più semplice possibile quindi sia mi verrebbe da dire sia un font sans serif ma qui ci vengono in aiuto anche dei font display quindi molto più arrotondati uno di questi fonti che è forse il più utilizzato ma anche il più bistrattato è il comic sans che naturalmente la grande famiglia dei graphic designer non cerca sempre di tenersi alla larga ma è un font che ad esempio nell'apprendimento sia nelle scuole sia appunto per casi di dislessia viene molto utilizzato perché è più fruibile per le sue forme arrotondate questo ci mette anche in condizioni da capire che non tutti i fonti vanno utilizzati sempre ma ognuno va contestualizzato nell'elaborato che facciamo invece per quanto riguarda i colori caldi e i colori freddi effettivamente a seconda dello stato di daltonismo questi colori potrebbero dare anche percezioni differenti anche se in alcuni casi anche la persona daltonica può in qualche modo riconoscere e agendo sulla percezione storica della propria persona quindi il fatto di aver visto una determinata tonalità di colore nella sua vita sempre utilizzata ad esempio per definire emergenza come abbiamo visto prima oppure per ambienti distensivi anche se la tonalità viene modificata una parte della percezione riusciamo a salvarla naturalmente dipende dai vari stadi e gradazioni però è anche per questo che gli elementi non vanno utilizzati singolarmente ma vanno mischiati tra loro e vanno bilanciati avete avuto la possibilità di creare voi un font? allora la possibilità c'è sempre però io nello specifico non l'ho mai fatto anche se è sempre un ambito che mi ha sempre interessato la particolarità del creare un font ad oggi e forse che ce ne sono talmente tanti che si rischia di creare come dire un font già visto o che si differenzia di poco basta aprire ad esempio Google Web Font e capirete che cosa voglio dire dovrei aver risposto a tutte le domande spero di essere stato chiaro se ci fosse qualcos'altro comunque rimango disponibile grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti